Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti tappeto Bidjar 148X104. Questi tappeti sono molto classici e sono denominati a volte, tappeti persiani di ferro, per la loro estrema resistenza e lunghissima durata. Sono tappeti spessi, molto densi e pesanti. La qualità della lana usata è eccellente. Sono tappeti realizzati con doppio passaggio di trama, e i motivi rappresentati li rendono adatti a qualsiasi ambiente. Lavorazione, annodato a mano. Spessore circa, 10 mm. Pelo, lana, ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.